Quinta edizione del progetto Esserci, un progetto che nasce grazie alla collaborazione con la dottoressa Marcheselli. Qual è la fotografia che si scatta oggi? È una quinta edizione che come le altre cinque ha messo insieme tanti soggetti istituzionali e associativi e che nasce grazie al contributo del Comune di Arezzo e di Estra e alla professionalità della dottoressa Marcheselli e di altre associazioni come la Scuderia di Panne e come l'Associazione Crescere. È un progetto che nasce dopo il Covid e che ha l'intenzione di unire tre aspetti. Uno è quello dell'inclusione per bambini con alcune difficoltà, con alcune disabilità. L'altro è una forte immersione negli aspetti ambientali e legati al rapporto con gli animali che sono sicuramente due strade molto forti per creare condizioni di agio, di cura e anche momenti di scambio tra varie abilità e quindi anche tra varie disabilità. È sempre un progetto interessante, sempre bello, 20 famiglie coinvolte perché nasce per ovviamente essere rivolto ai bambini e alle bambine ma nasce con una visione complessiva per cui le famiglie possano essere protagoniste. Quindi una bella progettualità e sicuramente vi sarà anche una sesta edizione.